Educare alla felicità, liberare l'altro dalle schiavitù. Educare alla felicità, educare all'altro chiaramente, educare anche ad un'armonia con se stessi evitando degli atteggiamenti di fondo sbagliati come il rigidismo che abbiamo visto nelle puntate precedenti e il buonismo. Ma vi è un altro atteggiamento che non solo l'educatore non deve possedere o deve lottare, ma anche colui che viene educato. Cioè la mancanza di trasparenza, l'insincerità. Come si può educare alla felicità? Educando alla falsità, educando alle bugie, educando alla non chiarezza nella vita. E' vero che molte volte la chiarezza, la trasparenza ti procura nemici. Dire la verità, far emergere la verità necessariamente procura nemici. Ma in un contesto educativo, la scuola, le associazioni, la famiglia, la comunità religiosa, le comunità parrocchiali, ecc. In un qualsiasi contesto educativo occorre educare ad essere trasparenti, a dire le cose così come sono, a fare le cose alla luce del sole. Perché prima o poi ciò che è nascosto emergerà. Sentite cosa dice Gesù. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di secreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunziato dalle terrazze. Così Gesù a capitolo 12 del Vangelo di Luca. Tutto ciò che è tenebre sarà vinto dalla luce. Allora educare alla felicità, educando alla chiarezza, all'annuncio della verità, alla trasparenza. Perché ciò che è menzogna è demonio. Il demonio è il menzognero per eccellenza. Il demonio fa sembrare vero, illudendoti, ciò che è vero non è. Il demonio ti inganna. E una persona, per essere felice, non può vivere nell'inganno e tampoco può procurare agli altri situazioni in cui si ingannano e in cui vengono delusi. Educare alla trasparenza. Alla trasparenza vuol dire educarsi anche ad accogliere le proprie difficoltà, le proprie fragilità e anche le fragilità degli altri. E' meglio un difetto che emerge. E' meglio una verità dura anziché una buona bugia. Perché la trasparenza paga sempre in felicità. Ci vediamo domani, Padre Pio TV, Dritto al Cuore. Ciao a tutti! Grazie a tutti!